Oggi a Aranica, in Villa Camozzi, si è tenuto un meeting internazionale dedicato ad una malattia rara, la nefropatia membranosa, con la presenza del professor Giuseppe Remuzzi, ma anche di pazienti e giovani ricercatori. Dopo due giorni di lavori con tutti i più grandi esperti del mondo, che vengono dagli Stati Uniti, dal Giappone, dalla Cina, dalla Germania, come vedete da altre parti dell'Europa, viene fuori che i progressi di questi ultimi anni sono stati straordinari. Nell'arco di 10-12 anni abbiamo fatto tre di questi meeting e tra il primo e l'ultimo c'è un'enorme differenza in termini di conoscenze e abbiamo due strade pratiche, molto concrete, molto belle, molto nuove, molto difficili e l'obiettivo è quello di curare definitivamente questa malattia. Noi siamo sicuri che nel giro di pochi anni riusciremo con lo sforzo di tutti, il titolo diceva se i passi avanti della ricerca si tradurranno in un vantaggio per i pazienti, la risposta è sì, e la cosa che mi fa enorme impressione, se voi vedete, avete visto tutti questi pazienti che vengono da tutta Italia, abbiamo invitato 200 pazienti, ne sono venuti 150, è una cosa molto commovente, adesso mettiamo a disposizione di tutti questi pazienti l'esperienza dei più bravi nefrologi del mondo in questo specifico campo e quindi per loro sarà un grande arricchimento e questo è il compito del centro di ricerche cliniche per le malattie rare dell'Istituto Mario Negri, portare avanti le conoscenze, far venire tutti i giovani, abbiamo tutti gli specializzanti che sono stati esposti a questi professori e dare agli ammalati la possibilità di sentire delle persone che loro non avrebbero mai la possibilità di raggiungere.